Un piccolo pensierino proprio a commento di questa pagina, come avete visto, proprio brevissima del Santo Vangelo. Ed è una pagina anche un po' strana, perché, ecco, più che in qualche modo inculcare una lezione riferita ad una parabola, ad una osservazione, sembra semplicemente darci una notizia, la notizia che Gesù, che predicava, che annunciava il Regno con i Suoi discepoli, era supportato da alcune donne, e dice proprio il nome di queste donne, e di alcune anche addirittura la loro storia, una storia che era passata attraverso delle sofferenze, e queste donne supportavano, aiutavano, custodivano il lavoro apostolico di Gesù. È una notizia, è una notizia perché molto spesso nelle pagine del Vangelo si parla di donne, ma si parla di donne per certi versi bisognose. Ecco, non è una scoperta che nel corso dei secoli della storia, ecco, la donna ha vissuto in tanti modi, potremmo dire un ruolo quasi di sudditanza, nell'arco della storia. Così anche nelle pagine del Vangelo c'è la storia, ecco, di donne ammalate, di donne vedove, di donne che hanno perso il loro figlio, segnate profondamente dalla sofferenza, e bisognose di un aiuto. In questa pagina del Vangelo è il contrario. Cioè, queste donne, sono donne che non solo, ecco, in qualche modo hanno addirittura dei beni, si parla proprio di beni, e questi beni sono posti al servizio di Gesù, della sua opera, della sua causa. Che cosa può significare questo? Prima, ecco, vi dicevo questa cosa a proposito di Madre Teresa, che fu chiamata un giorno la donna più potente del mondo. In effetti, ecco, in questa pagina possiamo sottolineare questo aspetto, potremmo dire davvero la forza delle donne. Una forza che non è mai mancata, anche nelle pagine del Vangelo in cui le donne appaiono bisognose di fatto, ma sono in qualche modo riscattate proprio dalla loro energia, dalla loro intelligenza, dalla preghiera con la quale sono capace di chiedere e ottenere, a cominciare proprio da Maria, la madre di Gesù. Sapete, anche nella vita di Padre Pio ci sono state delle donne che hanno avuto un ruolo molto particolare, anche proprio in aiuto, in supporto all'opera di Padre Pio. Ve ne dico semplicemente due. Una si chiamava Maria Basilio. Questa donna veniva da Torino. Qualcuno di voi viene da Torino? No. La chiamavano la Torinese, questa donna, che arrivò qui. Questa era una donna di affari. Non vi so dire tante cose di lei. Appena uscito dal santuario, qui Santa Maria delle Grazie, troverete pensione bianco. lei fu la primissima donna che venne qui e costruì quella struttura che serviva per l'accoglienza dei pellegrini. Era, aveva ereditato parte dell'eredità Venchi. Vi dice qualcosa Venchi? Soprattutto quando vedete qualche gelataio, no? Ecco, è una famosissima marca, no? Anche di gelati, no? Di dolci. Bene. Questa era una nipote di questa famiglia e all'epoca ereditò, fra l'altro, anche una fortuna per quella eredità. Con quei denari comprò il terreno della montagna dove oggi sorge casa sollievo della sofferenza. Donne che avevano un loro prestigio, anche sociale, che avevano una loro indipendenza. Non parliamo del 2022, dove ancora la strada, potremmo dire, piena, no? Della realizzazione di una donna, ecco, non è completamente, potremmo dire, anche nel contesto sociale dove noi viviamo pienamente raggiunta. Viviamo, no? In tempi molto più difficili. Poi ce n'è un'altra di storia, anche, è molto significativa, molto cara in modo particolare a noi frati, di una ragazza che arrivò qui e si chiamava Mary Pyle. Questa veniva dall'America, da Brooklyn. E questa era vera, molto ricca. I suoi genitori avevano una fabbrica di sapone a New York. Il papà era detto il re del sapone. Erano ricchissimi. E questa ragazza, figlia di questa famiglia così facoltosa, potè studiare, viaggiare, fino a che incontrò Maria Montessori. E Maria Montessori gli aprì gli orizzonti, potremmo dire, culturali. È stata una delle prime donne in Italia a potersi laureare. È stata una donna straordinaria. E anche lei amava viaggiare. Qualcosa che a quei tempi era quasi esclusivamente riservata agli uomini o alle donne accompagnate. Ma che una donna di suo prendesse la valigia e cominciasse a viaggiare a conoscere, era quasi proibito, se non addirittura scandaloso. Bene. Queste donne la vita le ha fatte incontrare, tanto che mi ripari l'affascinata dalla cultura di questa donna. In qualche modo le fece quasi, potremmo dire, da segretaria. E insieme viaggiavano, portando avanti la loro causa a favore della pedagogia. Quindi di questo progetto che riguardava il mondo delle scuole e dell'infanzia. Una rivoluzione vera e propria per quei tempi, con tutte le difficoltà che dovevano affrontare. Ora, queste due donne così emancipate, così brillanti, così determinate, arrivarono qui insieme negli anni trenta da padre Pio. Più per curiosità probabilmente che per fede. Di fatto, quando padre Pio incontrò questa ragazza, le disse subito, hai viaggiato tanto? Sei stato tanto in cerca? Bene. Qui questa è la tua casa. Benvenuta. Sembrava come se avesse in qualche modo, come dire, acchiappato il suo cuore in un istante. Tanto che la Montessori, che pure ebbe un'ottima impressione di padre Pio, rimasi quasi scandalizzata da questa cosa. Non si accorse che cosa stava succedendo. E quando Mary Pyle disse, no, io rimango qui, questa cosa sconvolse e addolorò la Montessori, che stava perdendo la sua migliore collaboratrice, nonché amica. Eppure quella donna, Mary Pyle, si fermò qui, accompagnò l'opera di padre Pio. E anche, vedete, i suoi parenti, i suoi genitori, pensarono che padre Pio fosse una sorta di santone. Così la allontanarono, la esclusero dal testamento, dall'eredità. Solo dopo la morte dei genitori, i fratelli, che erano venuti anche qui, e capirono che non era in qualche modo invasata da questo santone. Ma la sorella stava facendo un cammino bello, generoso, intelligente. E così la riammisero nell'eredità. Con quei denari, anche, lei decise di costruire il convento di Pietrelcina. Non so se qualcuno di voi lo conosce, è un enorme convento che serviva come seminario. E quindi anche lei mise a disposizione, non solo il suo cuore, le sue forze, ma anche i suoi beni. Un po' come accadde nella vita di Gesù. Ma il punto è un altro. Nella prima lettura si parla, San Paolo parla ai Corinzi, e dice alla fine una cosa. Che tutto quello che in qualche modo alla fine è ritenuto un bene per noi, il bene esclusivo, cioè alla fine la cosa più importante è la certezza della resurrezione in Gesù. Tutto questo da relativizza ogni altra cosa. E questo è il vero miracolo. Non è tanto quanto quelle donne hanno potuto mettere a disposizione. Ciascuno di noi ha un talento, ha un bene, ha un dono. Riconosciuto il vero bene che è Cristo Gesù e la sua opera di resurrezione che cambia la nostra vita, tutto il resto è relativo. Tutto ha un valore minimo per quanto è importante. E nella nostra capacità di offrire noi in qualche modo diventiamo in quella generosità che ci fa davvero grandi, sostenitori di un'opera che ha bisogno anche del nostro contributo. A proposito di questo vi racconto un'altra piccola storia di un'altra donna legata alla vicenda di Padre Pio. E questa cosa mi piace tantissimo perché vedete quando noi pensiamo a Padre Pio lo pensiamo sempre uno che aveva una risposta per tutti, che era in qualche modo anche più grande, anche spiritualmente. E invece, ecco, in questo trattino della sua vita lo vedo come un figlio, come uno che ha imparato una lezione grande nella vita che anche lui aveva un po' sottovalutato. E vi dico il perché. Arrivò qui una donna, Padre Pio stava costruendo Casa Sollievo e tutti un po' si adoperavano per aiutarlo, come vi dicevo prima, per portare un bene, una cosa che potesse aiutare in quest'opera comune. E questa donna portò un'offerta, ma era una donna molto povera, faceva fatica a vivere. Sapete come aveva potuto mettere da parte questa piccola offerta? Non accendendo più i fiammiferi e andava nella casa della vicina ogni volta che doveva riaccendere il fuoco e andava con qualcosa, con un cartoncino o qualcosa, andava ad accendere il fuoco e lo portava nella sua casa. Così aveva pensato, risparmiava il fiammifero e un fiammifero oggi, un fiammifero domani, mise da parte quella somma che gli permise di andare da Padre Pio e gli disse di dire, Padre Pio, questo è il mio contributo. Ma per quanti fiammiteri avesse potuto risparmiare? Certo, voglio dire, chissà, non doveva essere un'offerta molto grande, al punto che quando si presentò davanti a Padre Pio, orgogliosa, spadre, questa è la mia offerta. Ma Padre Pio, conoscendo questa persona, ebbe tanta tenerezza per lei e sapendo bene che aveva bisogno più lei di quel poco che casa sollievo, disse, ma che cosa stai facendo? Ma non ti preoccupare, tienila per te. Ma con quelle parole aveva distrutto tutto, perché questa donna si rattristò tanto e disse a Padre Pio, è troppo poco, per questo non l'accetti? Padre Pio in quell'istante sentì proprio come una grande vergogna addosso, aveva disprezzato la sacralità di quel sacrificio che quella donna aveva compiuto. Allora Padre Pio, visto questa cosa, e ancora una volta, la forza delle donne, la forza di quella donna. Ma certo, probabilmente anche lui si sarà ricordato di quella pagina del Vangelo, nella quale Gesù dice, no, di quella donna che porta uno spicciolo nel Tempio, e Gesù dice ai suoi compagni, agli Apostoli, avete visto? Quella donna ha messo più di tutti quanti nel tesoro del Tempio. E Padre Pio sentì questa cosa, aveva sbagliato, aveva sbagliato. Oltre al fatto che aveva ferito il cuore di quella donna, aveva sottovalutato il vero valore di quell'offerta. Ecco, questo in qualche modo ci dà la possibilità quest'oggi un po' di ripensare alla nostra vita, alla nostra capacità, anche di aiutare l'opera di Gesù, al modo con il quale, con le nostre forze, con i doni che il Signore ci ha dato, quel poco di salute che abbiamo, l'intelligenza, la fantasia, il sorriso, tutto è un talento prezioso nelle mani del Signore. E tutto può veramente rendere questo mondo più bello, più santo, più sacro, come Padre Pio, Madre Teresa, Giovanni Paolo II e tutti i Santi hanno vissuto in pienezza nella loro vita.